Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso giovedì 5 dicembre a Palazzo Mezzanotte. Innovazione e leadership hanno fatto da filo conduttore dei convegni e delle cerimonie di premiazione del 2019. Questo galà ha rappresentato la sintesi delle categorie premiate durante l'anno. Durante la cerimonia condotta da Manuela Donghi con la partecipazione esclusiva dell'attore showman Germano Lanzoni, Le Fonti ha omaggiato una delle categorie più amate e seguite, lo sport. Tre premiati sul palco di Palazzo Mezzanotte, il campione dell'Inter è Esteban Cambiasso che ha trionfato nella categoria New Year Talent Palcio in TV. L'eccellenza dell'anno è innovazione, comunicazione e banking e il The Winner is... Pausa teatrale... Cassa di risparmio di Volterra! Per essere un'eccellenza nel settore bancario territoriale in continua crescita e per l'approccio strategico alla comunicazione anche digitale, per il ricco programma di educazione finanziaria rivolto a private e piccole e medie imprese che la rendono un esempio di successo anche per i grandi gruppi bancari. Grazie! Complimenti a lei e al suo team, naturalmente vengono qua i CEO, gli AD, i responsabili, ma c'è dietro, immagino, un grande lavoro. Do il benvenuto al dottor Giovanni Biegi, responsabile ufficio marketing Cassa di risparmio di Volterra. Buonasera! Dottor Biegi, Cassa di risparmio di Volterra si è aggiudicata ai Le Fonti Awards come eccellenza dell'anno, innovazione e comunicazione banking. Come commenta questa vittoria? Beh, è un premio che ci riempie di soddisfazione in quanto conferma la lungimiranza anche della nostra vision e le scelte di posizionamento strategico che, tenendo saldi i principi del nostro sistema valoriale, hanno fatto evolvere le modalità di comunicazione e di marketing al passo con i tempi di oggi. Ecco, quest'anno avete avviato un nutrito programma di educazione finanziaria. Ci spiega meglio di cosa si tratta questo progetto e che riscontri ha avuto? L'educazione finanziaria, diciamo, si rivolge a più ambiti. Particolare quello che ci ha dato particolarmente soddisfazione è stato quello dell'ambito scolastico, dove abbiamo fatto iniziative importanti, una delle quali è ospitare Conoscere la Borsa, un evento importante a livello nazionale che quest'anno abbiamo ospitato appunto a Volterra. Si tratta di avvicinare con parole semplici, con un linguaggio vicino alla cultura delle persone a cui ci riferiamo e quindi metterle in condizioni di decodificare quel linguaggio particolarmente ostico e particolarmente, diciamo, criptico del sistema e delle concetti di banca, insomma, ecco. Quali sono secondo lei le principali sfide del settore bancario oggi e quali gli obiettivi che vi ponete in tal senso? Beh, diciamo, come ha detto giustamente lei, per noi il 2019 è stato un anno di particolare intensità e di particolari soddisfazioni perché ci ha visto emergere appunto dal lato del comunicazione e marketing. Abbiamo avuto anche un riconoscimento nell'innovazione di prodotto e quindi, ecco, vorremmo ripartire proprio da quello di buono che abbiamo fatto nel 2019. Confermeremo la nostra scelta della centricità del cliente che è un po' una nostra vocazione storica ma la vogliamo far crescere come leva competitiva e quindi elemento distintivo del nostro modo di far banca.